amici dei fumetti benvenuti nella redazione di weekly comics signori mancano due giorni voi direte a che cosa al giudizio universale no a che cosa alla seconda stagione di mandaloria no perché ne mancano tre no signori qui nella redazione di weekly comics parliamo di fumetti e in particolare ci stiamo avvicinando avete visto che ho fatto già due video e questo è il terzo che dedico ci stiamo avvicinando all'uscita della ristampa integrale a colori di mister no che uscirà giovedì con la gazzetta dello sport però per molti non lo sapessero si può comprare senza gazzetta dello sport e costa 4 euro 99 tutti perché molti mi hanno detto max ma sul sito della gazzetta c'è scritto 5 99 sì perché loro ti fanno pagare 5 euro 99 il mistero non lo so per quale motivo credo che ci siano o le spese di spedizioni o qualsiasi altra cosa o perché viene considerato arretrato appena esce non lo so in edicola costerà solo e sempre tutti i 60 i numeri e poi se continuerà immagino anche i prossimi sempre 4 euro 99 diciamo 5 perché questo centesimo che togliamo serve a poco a gente quindi aspettando con piacere con ansia io in modo particolare che giunga giovedì 29 di settembre oggi 27 cioè due giorni prima voglio parlare più che recensire parlare di una collana che è uscita l'anno scorso che si chiama mister no revolution di cui vi faccio vedere le popertine dei tre cartonati il primo che si intitola appunto amazzonia vietnam scusate perdonatemi vietnam il secondo che si intitola california e il terzo che si intitola amazzonia ok quelli vedrete scorrere adesso partire da questo momento li vedrete scorrere le copertine con alcune immagini tratte proprio dal volumine così li potete visualizzare e vedere con attenzione sono state realizzate tutte da me la storia è stata realizzata da masiero i disegni da cremona avallone e mammucari che sono tre disegnatori della casa editrice no quindi cremona avallone e mammucari per i testi di michele masiero che è l'erede diciamo disegnato di di sergio bonelli alias guido nolitta che cosa sono questi tre volumi definiti a revolution che hanno tre sottotitoli vietnam california e amazzonia sono una riscrittura in chiave moderna del personaggio mister no perché voi dovete sapere che giovedì quando comprerete il numero uno compratelo tutti perché altrimenti vi cadono i capelli se li avete e vi cade qualcosa altro anche no sto scherzando ovviamente quando lo comprerete voi troverete mister no in amazzonia a manaus con il suo piper già la collega rotas che gli fanno la corte lui che ammicca che beve la cacciaca la cacciaca che questa bevanda schifosa a basso costo che non ha niente che vedere con bevande diciamo di più alto livello che si possono permettersi tanti poveri spiantati quel suo giubbotto dell'esercito militare americano con il quadrifoglio che appunto in qualche modo si scoprirà poi nel tempo come gli è stato donato e perché ce l'ha attaccato sulla sul giubbotto e di fatto noi non sappiamo nulla perché poi bonelli impiegherà tantissimo tempo per raccontarci la genesi e le origini di mister no chi è mister no perché si chiama mister no perché in realtà non si chiama così ma si chiama jerry drake e con queste scamotage dei tre volumi cartonati o dei sei se li avete comprati nella versione dell'edicola divisi in due parti perché ogni volume è composto di due volumetti usciti in edicola masiero ci racconta con una riscrittura come dicevo prima in chiave moderna le origini di mister no tant'è che il terzo volume che si intitola amazzonia viene proprio dopo due storie molto pregne è una storia è una non è una riscrittura completa è una riscrittura parziale perché di fatto di fatto lui alla fine andrà in amazzonia diciamo che non andrà in amazzonia come come soldato della seconda guerra mondiale ma andrà in amazzonia come soldato del vietnam quindi è stato spostato avanti nel tempo anziché fare la guerra delle 40 45 a finire la linea 50 giusto e e quindi questa questa situazione viene usata come scamotage per raccontarci nelle pause in cui non devono fare battaglie o non hanno delle imboscate da parte dei vietcong della sua infanzia così ci viene raccontato dei maltrattamenti subiti dallo zio il fatto che suo padre praticamente l'aveva abbandonato il fatto che lui era praticamente un vagabondo che cercava dimora e cercava uno scopo nella vita poi lo vediamo appunto in vietnam che combatte per un ideale che poi si rende conto che non è più un ideale tant'è che lui fuggirà rischiando la morte perché di fatto dirà se ci lasciate andare bene altrimenti sparateci ma noi qua non ci stiamo perché non abbiamo niente a che dire di fatto ti fa vedere che mister no è contro la violenza e contro la guerra di fatto un pacifista e nonostante sia sempre pronto a dare una fara fara scazzottate poi in california avrà modo di incontrare dei personaggi che un compagno d'armi di vietnam li farà conoscere tra cui la sorella di cui diventerà anche fidanzato che però lo metterà nei guai diciamo che incomincia masiero in questi tre volumi a tessere la tela di come in realtà il nostro mister no che andremo a leggere e spero a comprare tutti quanti dal 29 di ottobre nella versione a colori della stampa integrale incominciamo a vedere che cosa ha fatto diventare jerry drake mister no accade che lui continua a dire no a certe situazioni è negativo nel suo nel suo modo di vedere le cose anche un po più simista e allora gli viene dato questo nominio lo simpatico ma comunque non vi voglio anticipare troppo la cosa importante che voglio rimarcare in questa questo questo video è che mister no è un personaggio che può essere considerato controverso ma in realtà non lo è tutte le persone possono sembrare controverse anch'io a volte magari in certi video posso sembrare controverso ma invece mister no come peraltro nel mio piccolo anch'io abbiamo le idee molto chiare di da dove veniamo e dove vogliamo andare e cosa ci interessa far far percepire le persone mister no è un personaggio che rifugge la violenza ma la violenza purtroppo lo cerca rifugge la falsità però la falsità lo troppo cerca insomma in poche parole è un po prigioniero di se stesso ma questa situazione è dallo spunto per mostrarsi in questa opera che per me è meravigliosa tra parentesi è come avete visto dalle immagini che sono passate è tutta colori quindi tutta colori quindi diciamo che è il buon viatico per quella che poi uscirà colori fra due giorni perché non c'è il bianco e nero che per alcuni versi io ritengo demodè nonostante sia diciamo un'opera che è stata fatta in epoche passate ma per me nel 2020 il fumetto in bianco e nero a mio modo di vedere non dovrebbe mai esistere non dovrebbe più esistere a mio modo di vedere per cui siamo pronti tutti quanti per imbarcarci su una piroga lungo rio delle amazzoni andare a fare una bella festicciola in qualche in qualche angolo sperduto del brasile oppure farci una bella bevuta di cacciaccia insieme all'amico SS che tra l'altro nel secondo volume California Mr. No incontrerà quindi come vedete è vero che si chiama Revolution ma di fatto sono stati cambiati soltanto alcuni parametri la storia diciamo che se vogliamo come scorre dal primo volume Vietnam fino all'ultimo Amazzonia diciamo che in qualche modo ripercorre la reale vita di Mr. No perché altrimenti sarebbe stata una riscrittura totale e a mio modo di vedere sarebbe stato molto pericoloso perché i personaggi che vengono considerati mitici quando vengono riscritti i vecchi fan e i nostalgici spesso e volentieri picchiano duro un esempio fra tutti la saga di Star Wars che per i fan come i nisti di George Lucas addirittura non amano la prequel che è fatta da Lucas per non parlare dell'ultima che a mio modo di vedere è la più bella però purtroppo che io sono un vecchio fan come vedete purtroppo a volte i neuroni cerebrali si atrofizzano e le persone non riescono a vedere la via del proprio naso e hanno il paraocchi quindi signori se voi volete avere una visione parallela che però vi potrà aiutare a comprendere meglio mentre comprerete la collana settimanale a 5 euro della Gazzetta dello Sport vi consiglio Mr. No Revolution perché è fatta veramente bene e vi dà appunto una visione a 360 gradi del personaggio Jerry Drake al secolo Mr. No ciao a tutti ciao a tutti